Per uscire dalla crisi, emittenti tv e piccole e medie aziende non hanno probabilmente alternativa ad un'alleanza fra loro. In un momento in cui sia le tv sia le imprese sono in difficoltà, mettere a confronto idee e punti di vista può essere fondamentale. Per questo il presidente dei giovani imprenditori di Confapi Puglia, Sergio Ventricelli, e quello di Confapi Bari e Bat, Carlo Pellicola, hanno organizzato un faccia a faccia tra il direttore di Antenna Sud Mauro De Nigris e alcuni giovani imprenditori, una chiacchierata creativa sul rapporto tra il sistema televisivo e le piccole e medie imprese in Puglia. L'iniziativa, inserita nel ciclo di incontri della Confederazione della Piccola e Media Impresa, il Sabato del Cervello, è stata occasione per approfondire alcune tematiche che stanno vivendo le tv dopo il passaggio al digitale terrestre e le aziende messe in ginocchio dalla crisi. Il fattore comune emerso dall'incontro è che investire in professionalità e innovazione è fondamentale, ma non basta. Per far conoscere le loro eccellenze, le imprese, soprattutto le piccole, hanno bisogno di un'informazione puntuale, corretta, non condizionata. Dal canto loro, le tv hanno necessità del sostegno del mondo imprenditoriale per affrontare una crisi che ha fortemente colpito anche loro, anche a causa del crollo degli investimenti pubblicitari. Le idee ci sono. Per esempio, De Nigris ha illustrato le novità del palinzesto che sta per partire caratterizzato dal nuovo TG .13, ma vanno alimentate. Per il bene del sistema Puglia, però, non si può e non si deve rimanere su posizioni anacronistiche e far prevalere divisioni e rivalità. L'Unione, mai come in questo caso, fa la forza.